Chi è? Guardia di finanza, è un blitz. Disturbo? Sì, no, dimmi pure. Che volevo parlare con lei. Lei mia nonna? No, con lei, non ci davamo di lei? Lei io? Ma no, ma mi dia pure di lei. E che tu continui a darmi di lei? Mi scusi, scusami, dicevamo? Sì, è che io l'altro giorno ho dimenticato una cosa. Cosa? Una borsa. Una borsa? Sì. E com'era questa borsa? Come una borsa, nera, di pelle marrone, tipo zainetto. Guardi, guarda, non c'è nessuna borsa a rivedere. Aspetta, 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 aspetta. È che l'altro giorno ho dimenticato anche un'altra cosa. Cosa? Una penna. Posso entrare a cercarla? No! È che dentro ci sono delle mie amiche. e sono nude. Sì, perché fa tanto caldo, guarda. Si muore. Ragazze, può entrare per caso un maresciallo della guardia di finanza? Sì! Sì, posso? Prego. Rossana, Margie e mia nonna. Ah, Guten Morgen, signora. Com'è andata a Chianciano? Quando gioca a burraco, lei è concentratissima. Vieni, andiamo. Vieni, andiamo. Vieni, andiamo.